Signore Gesù Cristo, che nella tua vita e nel tempo hai voluto una patria terrena, che fosse segno e immagine della patria cedessa, benedici questo vestito, fate essersi anche il segno concreto della tua proporzione. Assisti e proteggi tutti coloro che, sotto questo lavoro, compiono il servizio dell'osservanza dei padri e leggi per la custodia di l'ordine, a garanzia della tranquilla convivenza degli cittadini. Fate la vostra nazione, anche per la concordia operosa dei suoi figli, viva lunghi giorni di serenità e possa promuovere sempre la pace e costruire un mondo più giusto e più fraterno. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.